Advisor, il magazine della consulenza finanziaria, apre il 2012 con un annuario speciale. Sfogliarlo è come scoperchiare quella parte della finanza dove abitano i grandi temi di investimento del nuovo anno. Anche grazie agli outlook di mercato che, importanti case di gestione internazionali, hanno scelto di condividere con noi. La rivista festeggia un anno in edicola sotto la nuova proprietà di Open Financial Communication e, come si vede, è proprio una bella festa dell'informazione. La cover story è dedicata alla promozione finanziaria, come si evolve e a quali generazioni appartiene. Intervengono Lucio De Rocco, alla guida di banca IPB, e Mario Incroci, responsabile nazionale rete Monte dei Paschi di Siena, promozione finanziaria. Sul fronte gestori, ecco nella sezione asset, un approfondimento sulla scia dei dividendi nei prossimi 12 mesi. C'è chi come il presidente di Azimut, Pietro Giuliani, scommette sull'Italia, chi come Giuliano D'Acunti, di Invesco, offre consigli sulla gestione del rischio. Advisor di gennaio si chiude con un dossier dedicato a tutto il mondo degli investimenti alternativi e private equity, non solo hedge fund. Da un 2011 che ha deluso che aveva scelto di investire su prodotti, anche quando i mercati girano in negativo, sino all'alba di una nuova strategia che non fatichiamo a chiamare cultura finanziaria.